Ciao, sono Cristina. Oggi faremo tappo in Giappone, luogo magnifico per la cura del benessere con massaggio e pulizia viso. Presenterò un massaggio viso, chiamato Covido, il quale si basa su un lifting naturale per ogni tipo di pelle. Inizio con un'apertura utilizzando un pennello e la passo muovendola delicatamente su tutto il viso del coltè. Applico l'olio di rosa sul viso e lo distribuisco con le dita. Le manovre che andrò ad usare sono percussioni, sono attacchi ritmici che stimolano la tonificazione della pelle. Impostamenti favoriscono la circolazione sanguigna e l'ossigenazione dei tessuti, agendo sulla muscolatura. Frizioni attuate per generare attrito tra i tessuti. Vibrazioni è una tecnica di rilassamento dei muscoli. Sfioramenti usati per creare una condizione di rilassamento. Fizioni attuali. 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 Grazie a tutti. Grazie a tutti. Grazie a tutti. Grazie a tutti. Per concludere prendo il pennello e ridisegno il massaggio nel verso apposto. Grazie a tutti. Grazie a tutti. Grazie a tutti.